Mi piacerebbe potermi presentare, ma sono morto e non è divertente. Lui è il mio migliore amico. A volte facciamo delle belle conversazioni. Quelli li chiamo soti, mangiano qualunque cosa abbia un cuore. Cioè, lo faccio anch'io, ma... almeno sono un po' combattuto. Spend my life with a girl like you. Fai la morte. Così è troppo. Non spaventarla, non spaventarla. Cosa sei tu? Ecco un corpo che è stato contagiato. È insensibile, non ha sentimenti. È incapace di provare rimorso. Non capisco bene, ma sta cambiando. Prova dei sentimenti, sembra che stia tornando umano. Oddio, è lui veramente? Sì. Ciao. Ormai avete iniziato. Qualunque cosa ci sia fra voi, sta contagiando gli altri. Loro stanno cercando di guarire, papà. No, non guariranno mai. Vieni con me. Sparati a vista. C'è un guardo. Stiamo cambiando tutto. Lontano fra loro, signore. A chi spariamo? Sparate a questo. Salve. Quindi lui è il tuo ragazzo? Il tuo zombie ragazzo? Finiscila. Sì. Sì. Grazie a tutti.